Si intitola L'eutanasia della democrazia, l'ultimo libro di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi. Il testo con prefazione di Sabino Cassese individua nell'abolizione dell'autorizzazione a procedere per i membri del Parlamento avvenuta sotto l'incessante spinta delle piazze Forcaiole seguite alla stagione politica di Mani Pulite, uno dei passaggi cruciali della nostra democrazia che ha inciso in modo irreversibile sul rapporto tra i poteri dello Stato. In quest'opera, oltre alla fedele esposizione del dibattito parlamentare antecedente alla riforma, vi è anche uno scrupoloso lavoro di ricerca sulle guarantigie parlamentari. Quando nacquero, perché e cosa prevedono le costituzioni degli altri paesi occidentali? Domande essenziali per comprendere l'evoluzione della nostra democrazia. È nata sull'onda di un populismo che la Fondazione Einaudi ha sempre cercato di contrastare con tante sue iniziative, quella più nota forse è il referendum contro il taglio dei parlamentari che abbiamo proposto noi e che ha portato un terzo degli italiani a votare e che no, dunque a capire la nostra battaglia. E poi ora sulla provocazione intellettuale dell'articolo 68, che fu profondamente modificato nel 1993, individuiamo con quella operazione la nascita di un populismo, come dico sempre, allora nascente, poi crescente e oggi speriamo declinante. Libro con una prefazione di altissimo profilo? Come dico io, una battuta con un giovane ricercatore che diventerà famoso, credo il giurista italiano più importante, Sabino Cassese, che poi ci onora anche di sedere nel nostro Consiglio di Amministrazione e che leggiamo quotidianamente con i suoi splendidi fondi, ad esempio su Corriere della Sera, che sono un punto di riferimento per una cultura liberal-democratica in questo Paese. Che politica c'è oggi nel nostro Paese? C'è la politica che purtroppo è figlia di quegli anni di cui parla il libro. Quello che è avvenuto in quella brutta legislatura, pessima 92-94, con una serie di leggi liberticide, le peggiori leggi approvate in questo Paese, ha una ricaduta ancora a 30 anni di distanza e questo ci deve fare riflettere.